seconda parte della dodicesima lezione per l'insegnamento di metodi matematici per l'ingegneria con l'integrale di L-Bag possiamo costruire degli spazi vettoriali di funzioni che sono molto utili per le applicazioni che vedremo in seguito e che useremo per la trasformata di Laplace e la trasformata di Fourier in particolare si tratta dei cosiddetti spazi lp come sono definiti se p è un numero positivo quindi 0 è infinito e e è un insieme misurabile di r o rd secondo di dove ci troviamo poniamo lo spazio lp di e come l'insieme delle funzioni f definite su e a valori prendiamole complessi misurabili tale che se andiamo a fare l'integrale su e del modulo di f di x tutto elevato alla p otteniamo una quantità affinita quindi il modulo di f alla p è sommabile o integrabile su e si definisce anche il caso in cui p è se p è più infinito l'infinito di e invece è l'insieme delle funzioni f sempre da e a c misurabile tale che la funzione f è diciamo essenzialmente limitata cioè è limitata a meno di un insieme di misura nulla quindi dire che è limitata vuol dire che esiste una costante non negativa tale che tutti i valori della funzione f di x stanno nella palla di centro l'origine e raggio questa costante quindi il modulo di f di x è minore o uguale di m ecco se fosse così avremmo se questa fosse vera ovunque avremmo che la funzione è limitata ma noi abbiamo visto che non distinguiamo funzioni che possono variare su un insieme di misura nulla quindi richiediamo semplicemente che sia limitata secondo questa condizione quasi ovunque su e cioè che esiste una costante che domina la funzione f su tutti i punti tranne al più un insieme di misura nulla questo si dice anche che f è essenzialmente limitata non è difficile verificare che lp di e qualsiasi sia p è uno spazio vettoriale lascio a voi i dettagli di questa verifica ne facciamo solo la parte un po più interessante ad esempio vediamo che nel caso in cui p sia finito vediamo che se f e g stanno in lp di e verifichiamo che anche la somma sta in lp di e questa è una parte di quello che si deve fare per verificare che è uno spazio vettoriale poi l'altra parte è prendere una funzione e moltiplicarla per una costante scalare e far vedere che il prodotto di una funzione per una costante sta ancora nello spazio adesso noi verifichiamo la proprietà della somma per farlo ci avvaliamo di una disuguaglianza numerica quindi un lemmino se volete se a e b sono quantità non negative quando noi facciamo a più b e lo eleviamo alla p questo sicuramente la somma di a più b sarà minore di due volte il massimo dei due la somma di due numeri è minore di due volte la somma del più grande ma questo è uguale a 2 alla p per il massimo sarebbe il massimo dei due numeri elevato alla p ma il massimo di due numeri elevato alla p coincide col massimo di a alla p e b alla p a sua volta il massimo di due numeri è minore della somma dei due numeri quindi questo è minore di 2p per a alla p più b alla p ok noi adesso andiamo a fare ad applicare questa disuguaglianza quindi il fatto che a più b alla p sia minore di 2 alla p per a p più b alla p ovviamente p è maggiore di zero ecco per cui vale questa cosa e abbiamo adesso utilizziamo come a il modulo di f di x e come b il modulo di g di x cosa troviamo? troviamo che il modulo di f di x più g di x questo sicuramente è minore del modulo di f di x più il modulo di g di x disuguaglianza triangolare del modulo dei numeri complessi e quindi se eleviamo questo alla p tutto sarà minore di tutta questa cosa qui alla p adesso questo è il mio a questo è il mio b applichiamo la disuguaglianza di prima questo è minore di 2 alla p per modulo di f di x alla p più modulo di g di x alla p dopodiché se facciamo l'integrale sarà minore per monotonia avremo questa quantità qui quindi minore dell'integrale di questa espressione a destra per linearità possiamo spezzare l'integrale della somma nella somma degli integrali e quindi se questa quantità qui è finita e questa quantità qui è finita perché f g stanno in lp allora anche la somma sarà una quantità finita e quindi abbiamo quello che cercavamo ecco poi a casa completate la dimostrazione del fatto che gli lp sono spazi vettoriali e andate a fare anche l'analoga proprietà per lo spazio l infinito che in questo caso non è stato contemplato una proprietà importante che vale negli spazi di lp è la cosiddetta disuguaglianza di cebicef non so bene come si scrive si può scrivere in tanti modi a seconda della lingua che considerate adesso io lo scrivo così cebicef cosa dice andiamo a ricavarla abbiamo una funzione f che sta in lp di e con p finito e cosa abbiamo abbiamo che se facciamo l'integrale di f alla p in su e questo sappiamo che una quantità finita sicuramente questo sarà un maggiore uguale dell'integrale di f alla p sull'insieme chiamiamolo et dove et è l'insieme quindi sia et l'insieme di sopralivello del modulo di f di livello t quindi prendiamo l'insieme delle x dove modulo di f è maggiore di t ok sicuramente questo è un sotto insieme di e quindi restringendo il dominio ottenendo qualcosa di più piccolo ma su questo insieme la f maggiore di t quindi modulo di f è maggiore del di t alla p quindi stiamo integrando qualcosa che è maggiore della costante t alla p in dm qui immaginate che la funzione dipende dalla variabile x quindi stiamo facendo un f di x stiamo integrando rispetto a x ma adesso t alla p non dipende da x quindi qui abbiamo t alla p per l'integrale della costante 1 sull'insieme et e quindi otteniamo la misura di et mettendo insieme questa disuguaglianza con l'ultima parte ricaviamo che cosa ricaviamo che la misura dell'insieme et cioè dei punti di e dove f è più grande di t è minore uguale di 1 su t alla p per l'integrale di e del modulo di f di x in dmx questa è una disuguaglianza che si chiama disuguaglianza di cebicef che ha diverse applicazioni e la useremo in seguito adesso la registriamo come proprietà delle funzioni lp sugli spazi lp possiamo definire possiamo dotare lp degli spazi lp di quindi una norma la norma lp definita nello seguente modo la norma di una funzione f in lp di e la definiamo come sempre l'integrale del modulo di f elevato alla p fatto sull'insieme e tutto elevato alla 1 su p questo nel caso in cui i p è minore di infinito mentre invece la norma di f in l infinito la definiamo come se vi ricordate una funzione stai nell'infinito quando esiste una costante m positiva tale che modulo di f di x è minore uguale di m quasi ovunque su e ecco quindi almeno una costante che fa questo lavoro esiste noi andiamo a prendere fra tutte le costanti che dominano quasi ovunque il modulo di f andiamo a prendere la più piccola o almeno l'estremo inferiore di queste costanti ecco e questo definisce quella che si chiama la norma l infinito della funzione f queste definizioni definiscono delle norme in che senso allora intanto che cos'è una norma una norma su uno spazio vettoriale voi probabilmente conoscete già la norma euclidea sullo spazio rn in generale le norme le indichiamo con delle doppie barrette sono funzioni che vanno da v a r quindi ad ogni vettore associano un numero e hanno le seguenti proprietà la norma di un vettore v è sempre una quantità non negativa per ogni vettore del vostro spazio vettoriale la norma di un vettore è nulla se solo se si tratta del vettore nullo la norma è una funzione omogenea nel senso che se moltiplicato un vettore per uno scalare ottenete la norma del vettore moltiplicata per il modulo o il valore assoluto dello scalare questo qualsiasi v che sia un vettore del vostro spazio e qualsiasi lambda che sia uno scalare del campo scalare associato allo spazio vettoriale di solito noi adesso useremo come campo scalare l'insieme di numeri complessi o a volte l'insieme di numeri reali a seconda che stiamo lavorando con funzioni a valori complessi o valori reali e poi l'ultima proprietà forse anche più importante che quando fate la norma di una somma di vettori ottenete sempre qualcosa che è minore o uguale della somma delle norme dei vettori questa si chiama disuguaglianza triangolare queste proprietà le avete viste per esempio per la norma euclides o rn ma sono proprietà che possono valere in generale per qualsiasi spazio vettoriale con opportune norme per esempio per i nostri spazi lp la norma di fatto la norma di v è una misura della veramente fra virgolette grandezza o della lunghezza del vettore del vettore v gli spazi lp sono spazi vettoriali in cui i vettori sono funzioni sono spazi vettoriali di dimensione infinita definire una norma vuol dire essere in grado di misurare quanto grandi sono quelle funzioni con le norme possiamo misurare le distanze con una norma possiamo definire il concetto di distanza quindi definire la distanza tra vettori un po' come si fa con la norma euclidea la distanza tra un vettore u e un vettore v diciamo v e v doppio che si distinguono meglio un vettore v e un vettore v doppio non è altro che si prende la differenza tra i due vettori e se ne fa la norma quindi è la grandezza della differenza dei due vettori con le distanze cosa facciamo con le distanze possiamo definire per esempio le palle metriche quindi con la distanza possiamo definire le palle metriche quindi diciamo che la palla di centro v e raggio r non è altro che l'insieme dei vettori w che distano meno dr da v quindi tali che w meno v in norma e minore dr e con le distanze possiamo definire quindi gli intorni possiamo definire che cosa sono gli insimi aperti e gli insimi chiusi possiamo definire che cosa significa fare il limite di successioni di vettori nello spazio vettoriale e quindi possiamo parlare di continuità eccetera eccetera e quindi possiamo fare quello che si chiama topologia tutte le proprietà topologiche ecco perché è importante avere delle norme e quindi tante cose che noi abbiamo già visto nello spazio rn per esempio lo possiamo provare a fare anche in spazi di funzione come gli spazi del p nella prossima nel prossimo spazzone vedremo proprio di dimostrare che la norma lp è effettivamente una norma che gode di queste proprietà prima però per completare un po il discorso sugli spazi lp facciamo qualche osservazione sulla definizione degli spazi abbiamo detto che f appartiene ad lp di un certo insieme per esempio e se solo se l'integrale di f alla p su e risulta finito quindi il problema di sapere chi sono le funzioni di lp si riconduce a un problema di convergenza di un integrale cioè se l'integrale ha un valore finito o meno quindi decidere se f appartiene a lp o no significa studiare la convergenza di un integrale e noi questa cosa qui l'abbiamo fatta quando si è parlato di integrali per esempio in senso generalizzato cioè che possono convergere o divergere facciamo un paio di esempi se prendiamo la funzione f di x del tipo 1 su x alla gamma e prendiamo come insieme l'insieme 0,1 quindi ci chiediamo la domanda che ci chiediamo è f appartiene a delle p di 0,1 questo equivale a chiederci se l'integrale di f alla p quindi di 1 su x alla gamma tutto alla p fra 0,1 in dx è un integrale convergente vedete quando ci avviciniamo a 0 qui abbiamo una funzione che presenta un assintuto verticale gamma prendiamolo positivo anche p prendiamolo positivo quindi vediamo un po' di che cosa si tratta questa qui questa è un integrale da 0 a 1 di 1 su x alla gamma p in dx e questo è un esercizio sulla verifica della convergenza di alcuni integrali quindi se vi ricordate nel corso di analisi 1b o analisi 2 per chi l'ha fatto negli anni precedenti questa convergenza vale se solo se l'esponente qui della x al denominatore è più piccola di 1 gamma p minore di 1 e quindi questo significa che p deve essere minore di 1 su gamma altrimenti l'integrale non converge quindi questa funzione 1 su x alla gamma non sta in tutti gli lp ma solo negli lp che verificano questa condizione analogamente se avessimo preso la stessa funzione f di x uguale 1 su x alla gamma ma però come insieme e avessimo considerato l'insieme da 1 a più infinito veniva fuori che f sta in lp di 1 più infinito se solo se l'integrale da 1 a infinito di 1 su x alla gamma p in dx è finito e questo se vi ricordate i calcoli che abbiamo fatto quando abbiamo parlato di integrali generalizzati è verificato solo quando gamma p è strettamente maggiore di 1 quindi esattamente la disuguaglianza è opposta e quindi questo solo per i p maggiore di 1 su gamma p in particolare viene fuori che f di x uguale a 1 su x alla gamma non appartiene mai ad lp da 0 a più infinito perché o non è soddisfatta la condizione di integrabilità fra 0 e 1 o non è soddisfatta la condizione di integrabilità fra 1 e più infinito quindi se andiamo a prendere sia un intorno di 0 che un intorno di infinito questa potenza con lo stesso esponente o non sta da una parte o non sta dall'altra e quindi non sta nell'epiglobale απ'è Grazie.